Ciao a tutti ragazzi, abbiamo ordinato delle carte Pokémon dei cinesi che sono tre, tre! Io penso che ne erano di più, no, tre! Tre! Basta, tre! E quindi adesso spacchettiamoci me Ok, allora Abbiamo questa carta che è proprio, cioè, sigillata era? Non era toccata? Cioè, mi faccio capire? E ha dentro una bustina Cioè, dentro delle bustine così Vedete? E poi abbiamo lui Lui abbiamo Cioè, raga, che cavolo è? È finito il pacco Finito il pacco Cioè, avevamo Lui Lui È lui Cioè, che cavolo è? Poi non sono nemmeno così tanto potenti Qualcos'altro dentro il pacco Non c'è niente È vuoto Guarda È vuoto È vuoto Cioè, ragazzi Cioè, dai, però Vabbè Ciao È sbagliato È Ciao Ciao